Mega delirio patatine, quando ci sono le patatine c'è sempre il delirio perché ci piacciono, sono croccanti, fritte, arrosto, forno, basta insomma che facciano croc ma ho la soluzione, guarda che bello, un prodotto veramente eccezionale perché, perché è fatto, non so quanto riesco a farvelo vedere, ah no aspetta, è meglio che lo guardiate, è meglio che lo guardiate direttamente qui nella grafica, in pratica è un accessorio appositamente studiato per riuscire intanto per preparare quindi affettare per bene perché c'è tutto l'accessorio affetta, affetta, delirio, affetta, affettamento eccetera però soprattutto le mettete in pratica nel microonde, fino adesso fare le patate croccanti nel microonde era una roba impossibile, era un delirione che uno ci prova una volta o due volte poi dice sì vabbè ciao perché è impossibile fare le patate croccanti al microonde invece oggi è possibile grazie quindi patate normali, normali la prima patata che vi capita sotto mano, la affettate per bene e poi con questo accessorio lo mettete al microonde escono fuori delle patatine croccanti squisite e naturalmente senza aggiunta di oli e deliri perché sono in pratica sospese, lo vedete, è veramente una idea anche tecnologica e anche di design veramente straordinaria, è naturalmente un'idea che trovate firmata a Dixa24.com, vi consiglio veramente di provarla, è una nuova idea, farete anche divertire i vostri amici, vi sorprenderete ma cos'è questo coso? Le patate nel microonde, oh yeah! e quindi è il momento di acquistarle davvero, ve lo consigliamo, zero spese di spedizione su Dixa24.com Grazie a tutti!